sì allora bentornati in un nuovo video innanzitutto mi scuso perché oggi è domenica 15 e il video questo video che state vedendo non andrà non è andato in onda alle ore 19 perché purtroppo ha avuto una serie di contrattempi durante la giornata e so già che non riuscirò a caricarlo per quell'ora sono quasi le 7 e sto ancora registrando quindi lo vedrete diciamo stasera in tarda serata probabilmente magari mi state guardando sono le 10 non lo so non so esattamente a che ora andrà in onda però è online in onda stile tv però insomma vi ringrazio di essere di essere qua sul canale quindi bentornati a tutti i vecchi iscritti e benvenuti a chi invece magari è qui per la prima volta colgo l'occasione per dirvi comunque che di regola tutti i giorni alle ore 19 circa solo di essere puntuale alle ore 19 insomma c'è online il video è un'altra cosa che vi volevo dire vi volevo ricordare è che sabato 21 se volete se siete della lombardia insomma abitate nei pressi di bergamo siete di bergamo città possiamo incontrarci presso la bio profumeria ti mi ama in via sant'omaso per chi infatti la conoscesse già in via sant'omaso appunto c'è la bio profumeria ti mi ama che è appunto di francesca ledimija 83 qua su youtube noi siamo amiche abbiamo deciso insomma con l'arrivo dell'autunno di tutte le novità nella sua profumeria di organizzare una giornata nel quale incontrarci con le ragazze che avranno piacere di venire a scoprire il make up e tutte le belle cose di beauty che franci tiene negozio di salutarci insomma fare delle foto insieme e fare delle chiacchierate per tutte le cose che riguardano l'incontro del 21 che sarà appunto sabato tutto il giorno vi rimando all'info box dove vi segno tutto e arriviamo quindi a parlare di oggi delle cose insomma che riguardano il video odierno ossia di capelli oggi tra le altre cose ho un po' tardato col video infatti mi scuso anche per il look ragazze perché come vedete sono non dico struccata ma non ho fondotinta ho rifatto un po' le sopracciglia avevo truccato gli occhi un po' di correttore rossetto ma non ho la base non ho fatto la base non ho continuo insomma non ho nulla non ho neanche la cipria forse non lo so comunque ho giusto truccato un po' il viso perché in realtà oggi era diciamo dedicato alla cura dei capelli e allora visto che ho fatto tardi per questo motivo e ho pensato che magari vi poteva interessare sapere che cosa faccio per i capelli perché effettivamente li ho belli lunghi e ragazzi non ho praticamente doppie punte sono sanissimi li ho schiariti ma continuano ad essere veramente dei capelli sani allora innanzitutto devo dire che ho ripreso da quando sono tornata dalle vacanze estive memore dal beneficio che i miei capelli hanno avuto durante l'estate e ricollegando questo beneficio probabilmente anche all'uso smisurato che ho fatto in vacanza di oli per capelli ho ripreso a fare le maschere pre shampoo le maschere pre shampoo le faccio con gli oli bagno completamente i capelli diciamo da questa altezza insomma per tutte le lunghezze e li raccolgo però precedentemente in una in una coda per quanto riguarda raccogliere i capelli li raccolgo tutti i giorni perché comunque mi alleno sapete che li raccolgo li raccolgo per dormire li raccolgo quando sono in casa ormai da un anno a questa parte uso solo e soltanto gli invisibubble all'inizio non li tolleravo mi sembravano inutili scomodi non li comprendevo poi ho iniziato ad utilizzarli e non mai 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 più utilizzato un elastico normale mi permettono di raccogliere i capelli mi danno anche un certo movimento ai capelli quando li tengo raccolti li attorciglio con una crocchia crocchia nella sommità del capo cioè prendo i capelli praticamente e faccio vedete questo tipo di di lavoro li attorciglio così ok e poi li fermo appunto con l'elastico invisibubble in questo modo scusate li rimetto a posto in questo modo assumono un bel movimento quando poi li sciolgo che mi piace tantissimo e soprattutto non mi spezzano per niente i capelli mentre oddio però che chiome mentre quando utilizzavo gli elastici levavo ciocche di capelli quindi invisibubble come diciamo trucchetto per tenere a bada e curare i miei capelli e poi dicevo appunto degli oli quindi bagno i capelli faccio una coda con l'invisibubble e nella lunghezza nella coda di cavallo che che spunta vado a ungere i capelli li bagno prima applico gli oli sui capelli bagnati perché penetrano meglio applico questi due oli questo sta per finire questo è più o meno a metà questo è il planta optima olio spray e semi di lino e carité mi piace da morire sono tutte e due due oli puri nel senso che c'è veramente qua qui qualcosina in più ma è comunque un prodotto dall'inci ottimo e qua invece c'è veramente soltanto sì sì praticamente c'è soltanto l'olio stavo leggendo perché dice olio di lino profumo poi c'è olio burro di carité tocco ferolo linalolo e basta insomma quindi sono praticamente oli puri e ripeto questo mi piace moltissimo fa molto bene i capelli l'olio di semi di lino e carité è questo appunto ma puzzacchia l'olio di semi di lino ha quell'odore non proprio piacevole erbaceo che a molti dà molto fastidio a me dà abbastanza fastidio a pablo dà fastidio 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 quindi tutte le volte che lo usavo mi diceva che puzza per cui ho iniziato a mischiarlo con degli oli particolarmente profumati uno di questi è l'olio corpo e capelli macadamia e carité che ormai è anche tutto vedete l'etichetta non si legge bene perché l'ho portato anche al mare in sardegna ed è appunto quello di erboristica di athenas faccio un mix diciamo di questi oli li ungo a dismisura li attorciglio di nuove in una crocchia e li punto e li fisso e poi per non fare in modo che per fare in modo che l'olio non si secchia a contatto con l'aria con l'aria vado a imbustare i capelli con un sacchetto di plastica piccolino uso quelli del freezer o dei mini sacchetti da shopping che magari ho a casa chiudo la crocchia e ci metto intorno appunto l'elastico con l'invisi bubble quindi li tengo così per più tempo possibile oggi li ho tenuti così dalle 10 del mattino fino alle 6 di sera più o meno dopodiché ho fatto lo shampoo per quanto riguarda lo shampoo ho varie cose da raccontarvi se vi va di vedere quali prodotti ho appena finito di utilizzare li trovate gli shampoo appena terminati nel video prodotti finiti che vi lascio qui che ho appena girato mentre sto continuando ad utilizzare mi piace moltissimo questo shampoo che mi era stato regalato al Cosmo Prof e del quale non sono nemmeno a metà ma mi basterà per un bel po' di tempo perché uso poco prodotto proprio perché non l'ho portato qui però uso un cosino che vi avevo già fatto vedere che è uno di quei flacconi che mettono dentro le confezioni di tinta che ha il beccuccio con la punta lo uso da sempre e praticamente ci metto dentro una quantità di shampoo e acqua e shaker e faccio quindi già emulsionare lo shampoo emulsionare si diventa non lo so comunque diluisco lo shampoo con l'acqua e poi con il beccuccio mettendomi a testa in giù nella vasca per lavarmi con il beccuccio diciamo del contenitore spruzzo già lo shampoo nei vari punti della testa e poi vado a schiumare ma già così ha fatto la schiuma perché quando voi shakerate già produce la schiuma all'interno quindi voi quando spruzzate viene fuori già la schiuma ed è un ottimo metodo per usare molto 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 meno shampoo questo comunque è un marchio italiano che ha sede in sicilia se non sbaglio ed è a base di opunzia l'olio di opunzia è appunto l'olio di fico d'india mi trovo stra bene con questo shampoo che è senza solfati e senza parabeni e mi trovo molto bene in combinazione anche col suo olietto vedete uso questi due questo ragazzi mi durerà anche questo non so quanto perché in pratica lo uso solo sulle punte e non per forza subito dopo il lavaggio adesso infatti vi spiegherò ed è appunto olio di opunzia questo proprio questo è a base di olio di opunzia e questo è olio di opunzia anche questo è un flaconcino da 12 ml ma ripeto ne metto qualche goccia faccio così e poi lo metto sulle punte di regola non lo metto appena lavo i capelli infatti oggi non l'ho messo ma lo metto in tutte le giornate successive al lavaggio fino al successivo lavaggio per cui tipo domani mattina mi sveglierò pettinerò i miei capelli dopo essermi svegliata metterò alcune goccine e idraterò per così dire nutrirò ecco i capelli per la giornata così come metto diciamo la crema sul viso sono solita andare a nutrire quotidianamente i capelli con un olietto in questo momento uso lui sapete che sempre se guardate i prodotti finiti ho finito un altro olio che usavo per questo poi cosa metto invece appena lavo i capelli allora appena lavo i capelli anzi prima di arrivare al live in vi voglio dire qualcosa riguardante questo prodotto questo prodotto è aquis ed è il famoso asciugamano in microfibra che vendono da sephora e di cui tanto si è parlato come una rivoluzione per i capelli allora io lo uso sempre lo uso ogni volta adesso è bagnato perché l'ho usato stasera e fra un po' lo metterò a lavare in lavatrice ma prima vi volevo appunto dire come mi trovo allora mi trovo bene perché un asciugamano in microfibra assorbe un sacco di acqua effettivamente quando avvolgete i capelli dopo il lavaggio io per esempio li ho avvolti e mi sono lavata i denti e messa le creme del viso e poi ho sciolto i capelli e già avevo assorbito un sacchissimo di acqua e poi sono passata all'asciugatura ma al di là del fatto che mi assorbe molta acqua in poco tempo cosa che mi aspetto da un asciugamano di microfibra non ho riscontrato altri benefici oltre questi quindi a mio avviso non so non consiglierei di andare a comprare proprio quello specifico asciugamano di microfibra che vendono da Sephora, a me è stato omaggiato ma diciamo mi è piaciuto però non riesco a vederne dei benefici su capelli a livello di cambiamento del cappello in sé per sé detto questo passiamo al leave-in per il leave-in uso due prodotti entrambi di Nika uno è il Fairy Silk with Amino Bond Complex Silk Infusion eccolo qua Nika anch'essa come Rica è un'azienda italiana della Toscana se non sbaglio si Pisa si e questo prodotto mi piace moltissimo per la sua texture formulazione che è uno dei prodotti che amo utilizzare sono questi appunto così liquidi in lozione diciamo spray e quindi cosa faccio? Quando tiro fuori i capelli dall'asciugamano e sono ancora a testa in giù prima ancora di pettinare vaporizzo su tutta la chioma a partire dalle radici e fino alle punte vaporizzo un bel po' di spruzzate di questo prodotto che in pratica vi leggo dice ammorbidisce la capigliatura evita il crespo dona idratazione mantenendo ordinati i capelli con Amino Bond Complex applicare sui capelli umidi e poi procedere allo styling allora me li mi aiuta a districarli quindi me li districa molto bene effettivamente le ammorbidisce ha un'estrema pettinabilità e dopo sono morbidissimi quindi mi piace tantissimo infatti il nome che si chiama Silk Infusion mi dà proprio l'idea di essere azzeccato perché i capelli dopo sono veramente setosi abbino però a questo prodotto due pump di Nika Fairy Silk Extender quindi è praticamente sempre della stessa linea Fairy Silk però questo è l'extender è una crema senza risciacquo dice crema senza risciacquo ideale per avere i capelli lucenti, idratati e privi di crespo per almeno 8 giorni infatti sono due prodotti che amo molto questo però a differenza dell'altro non lo metto su tutta la lunghezza ma lo metto soltanto diciamo così su questo pezzo di capelli finale e lo metto dopo che ho districato i capelli quindi vado a prendere la mia spazzola sapete che è da circa un anno e mezzo abbondante la mia spazzola di fiducia scusate ha dei capelli la devo pulire l'ho appena utilizzata è la Wet Brush Pro la miglior spazzola in assoluto non fatevi ingannare da questi dentini che non sono come quelli anni 80 questa spazzola è identica nel look a quelle con cui le nostre mamme ci martellavano i capelli almeno la mia mamma negli anni 80-90 e questi erano praticamente durissimi di ferro con delle punte che ti si infilavano nel cervello no, questi sono praticamente di plastica morbidissimissima vedete? super pieghevole e ragazzi questa spazzola districa magicamente i capelli è una bomba mi piace tantissimo districo quindi i capelli e poi vado appunto a mettere un pump di questo uno o due pump di questo prodotto a questo punto procedo allo styling a questo punto dicevo procedo allo styling lo styling lo effettuo con il phon e faccio brushing con questa spazzola questa spazzola io la adoro anche qua c'è qualche capello mi scuso ma l'ho appena usata adesso la vado a pulire ed è la Tangle Teaser quella fatta così per il brushing non utilizzate questa spazzola per fettinarvi se no la recensirete in maniera negativa perché penserete che è fatta per uccidervi il cuoio capelluto queste punte sono stradure vi ucciderebbero il cuoio capelluto se provaste ad utilizzarla per pettinarvi vi fareste male e pensereste che è una pessima spazzola ma in realtà è una spazzola che va usata così con il phon per fare appunto brushing e asciugare i capelli mentre si inizia a lavorarli è a dargli una forma a levargli il crespo e ad allisciarli per questa funzione è buonissima nasce solo con questa funzione non è destinata a pettinare i vostri capelli mi trovo molto bene concludo l'aircare routine con due maschere che sto utilizzando al momento una ve l'ho menzionata nei prodotti finiti perché ho terminato lo shampoo adesso abbinato la maschera è lì lì per terminare è la maschera nutriente ristrutturante della linea equilibra fitosinergia lo stavo dicendo alla francese fitosinergia è senza parabeni coloranti è praticamente all'estratto di keratina da lana estratto di cellulosa bambù, gomma di guar è un complesso vegetale ad azione ristrutturante mi piace moltissimo ne basta poca potete fare una posa anche veramente breve vi lascio i capelli super morbidi e super districati sempre della linea di equilibra una linea di equilibra adoro l'argane efficacia naturale con olio di argane estratto di foglia di tè nero per capelli spenti, protettiva ma insomma anche questa io la trovo estremamente nutriente districante e mi ammorbidisce subito i capelli anche di questa ne uso molto poca quindi mi durano veramente tanto ed è con estratto di foglia di tè nera condizionanti di origine vegetale che districano donando morbidezza estratto di semi di lino e glicerina vegetale anche questa senza parabeni siliconi petrolati peg e quindi insomma si tratta di due prodotti della stessa casa che mi piacciono moltissimo e sono le mie maschere del momento che utilizzo quasi sempre al posto del balsamo non sto utilizzando il balsamo e vado ad utilizzare direttamente appunto le maschere sui capelli le tengo in posa a quei 5-10 minuti stile balsamo e poi le sciacquo l'ultimo prodotto che vi voglio rimenzionare è un prodotto che mi salva di regola nell'ultimo giorno prima dello shampoo successivo l'ho già ricomprato perché l'avevo terminato è la Renko di tuole dry shampoo shampoo secco che secondo me non ha rivale è un prodotto che costicchia costa sui 30-32 euro ma a me dura un sacchissimo di mesi l'altro boh mi è durato secondo me quasi un anno lo adoro mi piace moltissimissimissimo ha un profumo unico mi dà texture mi solleva le radici mi rinnova proprio la capigliatura sembra che io abbia quasi fatto una piega un po' selvaggia e non che i capelli siano da lavare perché ovviamente non è che lo metto se il capello è super sporco se è super sporco non esco di casa e lo lavo però succede che ci sono quei giorni in cui non vi sentite super col capello super volante super morbido eccetera ma avete un impegno dovete uscire e non potete farne a meno quindi questo mi salva veramente la vita detto questo ragazzi io che cosa volevo provare a fare le onde stile Belen perché sapete che saranno due anni ormai che Belen ha queste onde così che impazzano e io ho un ferro della Babyliss che non ho mai o quasi forse l'avrò usato una volta due volte non lo so mi era preso un periodo in cui lo usavo l'avevo comprato per Natale me ne sono un po' dimenticata quindi in effetti volevo riprovare con i capello così lungo a vedere con le onde come mi vedo quindi adesso ci provo e vediamo il risultato come viene allora il ferro è questo questo di Babyliss Pro eccolo qua lo avevo preso da Look Fantastic e adesso voglio vedere aspettate non sono pratici ma così secondo me voglio provare a vedere come funziona questa onda è proprio stile stile Blaine oh mio Dio vediamo l'anima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti